...e prospettive per il real estate italiano e il titolo dello speech di Francesca Dienstein, direttore generale di scenari immobiliari. Benvenute, grazie. Buongiorno a tutti. Grazie. Ma non ricordo, chiedo a Gerardo, ma quella prima volta c'ero anch'io. Forse sì, non tra i tuoi sostenitori, ma all'interno di quel panel, e così quando ci siamo incontrati per questa prima volta. Grazie a tutti, buongiorno. Naturalmente un ringraziamento a Gerardo Paterna per essere qui con voi anche quest'anno. Io vi devo riportare un po' a terra, cioè abbiamo sentito tante suggestioni e elementi interessanti, ma adesso torniamo un po' sul nostro mercato, sull'andamento, sui numeri e così via. Faccio una piccola premessa su quello che è stato il contesto economico all'interno del quale ci troviamo, perché a dispetto di tutto quello che è successo e di tutti gli elementi di difficoltà che conosciamo, il settore immobiliare, l'industria immobiliare quest'anno è andata ancora molto bene. E poter dare questa informazione è sempre molto positivo per chi come me si occupa di analisi di mercato e di numeri. Ed è andata molto bene per quello che riguarda quello che io chiamo il mercato ordinario, cioè il mercato fatto dalla domanda e dalle compravendite delle famiglie, sia per quanto riguarda l'ambito residenziale che per gli uffici e per il commercio, cioè per i luoghi nei quali lavoriamo o in cui abbiamo il nostro lavoro, che è quello di essere commercianti, ma è andata molto bene anche nell'altra grande famiglia del mercato, che è quella che definiamo un capital market, cioè il mercato degli investimenti. Allora, premessa, sapete che nel settore immobiliare quando vogliamo capire o vogliamo riferirci a un'analisi che riguarda appunto il mercato degli investimenti, analizziamo sempre il mondo dei fondi immobiliari. I fondi immobiliari sono dei veicoli a tra questo i quali il patrimonio immobiliare viene gestito. Al mondo esistono due, diciamo, grandi famiglie da questo punto di vista, i fondi immobiliari e i REIT. I REIT sono dei veicoli quotati, per cui chi li detiene non è proprietario direttamente degli immobili, non investe direttamente degli immobili, ma investe in quote, e poi ci sono i fondi immobiliari che sono investimenti diretti, investimenti per, diciamo, utenti specializzati, quelli in Italia, e investimenti invece retail, quindi per ognuno di noi. Da questo punto di vista, nonostante eventi di guerra, nonostante la crescita dell'inflazione, nonostante l'aumento dei tassi, e poi vi racconterò come, perché un minimo di premesse sul mercato va fatta, il settore gestito al mondo è cresciuto nel 2022, stiamo ormai alla fine di circa il 17%, cioè il valore del patrimonio detenuto dai REIT è cresciuto e dai fondi immobiliari è cresciuto del 17%. Questa crescita è stata dovuta in gran parte al buon andamento dei REIT americani, e voi vi direte, ma perché negli Stati Uniti non hanno sentito la crisi? No, è come se l'hanno sentita, l'hanno sentita come noi, hanno visto e hanno in questo momento un aumento dell'inflazione che è un pochino sotto la nostra, noi ora siamo circa all'8,5%, loro sono scesi al 7,7%, ma in realtà hanno continuato ad acquisire patrimonio. e quindi l'aumento è stato dovuto in gran parte a questo buon andamento dei REIT americani e in parte al buon andamento dei fondi immobiliari europei che hanno visto una crescita del valore dei patrimoni del 10%. Però, dall'altro lato, è anche vero che le aspettative per il 2023 e il 2024 effettivamente ci riportano un po' di problemi che sono evidenti e quali sono questi problemi? Beh, allora, il Fondo Monetario Internazionale è uscito con l'ultima rilevazione alla metà di ottobre, rivedendo al ribasso le stime di crescita dell'economia mondiale per il prossimo anno. Quindi, da una prospettiva ad agosto, che era di una crescita del 2,9%, siamo scesi al più o meno 2,7% e una chiusura per il 2022 al 3,2%. Poi, abbiamo detto, la crescita dell'inflazione e poi i tassi, cioè il cambiamento da parte delle banche centrali rispetto alla moneta. Le banche centrali, lo sapete, nel periodo del Covid sono state molto generose, hanno cercato di sostenere le economie nazionali in tutti i modi, questo è stato anche uno degli elementi per cui l'inflazione è cresciuta, ora, naturalmente, stanno facendo passi indietro. Ad eccezione della borsa giapponese, che ha delle modalità e degli approcci che sono completamente diversi, le borse mondiali hanno deciso di alzare i tassi. Guida questa scelta delle borse mondiali, come sempre, la Fed, la borsa americana, che ha portato a rialzo i tassi già per sei volte durante il 2022, con le ultime quattro volte con 75 punti base. 75 punti base per quattro volte vuol dire tre punti percentuali. Quindi le prospettive, dal punto di vista economico, non sono così rosee come sono stati gli ultimi anni. E soprattutto, questo lo dico per tutti noi, non sappiamo cosa vuol dire lavorare con l'inflazione alta. La maggior parte di noi hanno messo in atto la propria attività, dal punto di vista lavorativo, in un mercato in cui l'inflazione è sempre stata molto bassa. Il massimo che abbiamo avuto negli ultimi vent'anni è stato il 3-4%. Quindi abbiamo molta paura, molta più paura forse di quella che sarà la realtà, di quello che ci sta succedendo all'intorno. E le famiglie, questi timori che noi continuiamo a raccontare, che noi continuiamo a mettere in evidenza, li assorbono e di conseguenza delle scelte faranno. In realtà, però, se consideriamo che cosa vuol dire l'inflazione per gli immobili, l'inflazione per gli immobili vuol dire, da un lato, la crescita dei prezzi, dall'altro, e soprattutto è questo che ha una grande influenza sul valore dei patrimoni immobiliari, la crescita dei canoni. Perché la ricaduta sui canoni della crescita dell'inflazione è immediata. La ricaduta sui prezzi si realizza quando i prezzi si fanno, cioè quando le compravendite si realizzano, ma la ricaduta sui canoni, visto che i canoni si incrementano nel residenziale del 75% della crescita dell'inflazione ogni anno, o del 100%, se parliamo delle attività commerciali, in realtà hanno un effetto immediato. E poi, la cosa più importante di tutte, l'investimento immobiliare, che sia un investimento da parte delle famiglie, che sia un investimento da parte delle imprese, è un investimento di lungo periodo. Quindi non ci deve spaventare quello che succede nell'immediato. Il nostro è un mercato ciclico, è un mercato ciclico per definizione, è un mercato ciclico che ha una grandissima sicurezza nel nostro lavoro, perché alla fine tutto si riporterà bene o male su quello che è stato il livello iniziale, tolte le dovute inflazioni del periodo. E questa qualità dell'essere un mercato ciclico che si ricompone, dell'avere un prodotto che non si consuma, ma quale altro mercato ha un prodotto che non si consuma? Noi abbiamo un patrimonio immobiliare che esiste all'inizio e esiste alla fine del ciclo immobiliare, dopo tutto il periodo della crisi, dopo le crescite e dopo le diminuzioni. Quindi, se è anche vero che avremo assolutamente, ce lo aspettiamo, un rallentamento per i prossimi due o tre anni, anche perché le cose dopo il Covid e prima del Covid stavano andando molto bene, è anche vero che alla fine di questo periodo di lieve difficoltà ci ritroveremo col nostro patrimonio che nella peggiore delle ipotesi avrà lo stesso valore iniziale, ma nella migliore delle ipotesi sarà più qualificato, più interessante se ci avremo lavorato bene, più importante per la nostra realtà di quello che è stato all'inizio. Dopo questa premessa poi adesso ci guardiamo un po' di numeri. Io come sempre ho preparato un moltissimo slide che non vedremo tutte perché non abbiamo naturalmente il tempo, ma che poi vi lasceremo e quindi se poi vorrete guardarle, analizzarle, se avrete qualcosa da chiedermi mi potete scrivere e io vi risponderò con i tempi un po' lunghi che ho per tutte le cose che ci sono sempre da fare, ma volentieri. Allora, vediamo come è andata in Europa e come sta andando. Dicevamo, per quello che riguarda il nostro mercato ordinario, cioè quello fatto dal settore residenziale, dal settore terziario, dal settore commerciale, quindi non dal settore dei grandi investitori, il 2022 si sta chiudendo molto bene con un incremento, lo vedete, dei fatturati, che sono uno degli indicatori che analizziamo quando parliamo di mercato, di circa il 12% per quello che riguarda l'Europa dei 5 e del 9-10% per quello che riguarda l'Europa del 28. All'interno di questa Europa dei 5 e dell'Europa del 28 ci mettiamo ancora la Gran Bretagna, che è un mercato europeo anche se non fa più parte dell'Unione. Gran Bretagna che in realtà sta andando molto male rispetto al resto d'Europa, ma la qualità come il mercato americano, questa è una caratteristica dei mercati anglosassoni, di sapersi ristrutturare e ripartire molto velocemente. Perché sta andando male? Perché è un paese che vede la costruzione del proprio valore, del proprio valore aggiunto, quindi del PIL, nel mondo dei servizi. Nel momento in cui il mondo dei servizi e quindi nel momento in cui quello che non è necessario, che è la produzione, perché la Germania continua ad andare così bene? Perché la Germania è ancora un paese di produzione e quindi risponde a una domanda che è una domanda di necessità. La domanda dei servizi risponde a una domanda che non è necessaria o non è sempre necessaria, è una domanda che aiuta, è una risposta che ti fa vivere meglio, ma non è una risposta immediatamente necessaria. Allora in questo momento UK, soprattutto per quello che riguarda il patrimonio gestito, sta avendo delle grandi difficoltà, però complessivamente a livello europeo è andato molto bene. L'Italia si è comportata esattamente in linea con gli altri paesi europei, un incremento del fatturato di circa il 10%. La stessa cosa la vedete raccontata in queste immagini, che è l'andamento. Allora, l'andamento dell'Europa è stato un po' superiore, anzi direi abbastanza superiore, rispetto a quello dell'Italia, ma più che altro per quanto l'Italia ha perso negli anni passati e quanto in realtà stava recuperando, ma che il periodo del Covid ha un po' frenato. Se entriamo nel merito di quello che è successo nel territorio italiano, io tutte le volte che parlo dei nostri mercati ordinari, sollecito a vedere, anche se i numeri sono piccoli, quanto pesa il settore residenziale rispetto a tutto il resto. Noi abbiamo un mercato ordinario che quota, quoterà alla fine del 2022 circa 140 miliardi di euro di fatturato, di cui 112 miliardi sono fatti dal settore residenziale. Eppure, in quel famoso mercato parallelo, quello fatto dagli investitori, investimenti in residenziale in Italia non ci sono. Questo è uno dei motivi per cui il nostro peso in investimenti è così limitato rispetto al resto d'Europa. Noi chiuderemo quest'anno con investimenti fatti dagli istituzionali nel nostro mercato a circa 12 miliardi, che rappresenta il nulla rispetto al fatturato complessivo, con un'Europa che galoppa. Allora, pensate che gli investimenti in Italia sono circa il 3% del mercato europeo, l'Italia contribuisce al PIL complessivo dell'Europa per più del 10%. La differenza fra questi due numeri ci dice tutta la difficoltà in cui questi investitori, che sono alle porte, che hanno un sacco di soldi da investire in questo momento in liquidità, soprattutto gli americani, hanno un dollaro fortissimo. Per la prima volta a luglio di quest'anno siamo arrivati alla parità fra il dollaro e l'euro. Da quando l'euro è stato creato come una moneta non c'era mai stata questa situazione. Quindi oggi hanno un sacco di soldi da investire sul nostro mercato, sono già arrivati nel mercato europeo ma non arrivano in Italia. Uno dei motivi per cui non arrivano in Italia è indubiamente la burocrazia, la lunghezza e quindi mi è piaciuto molto l'intervento di prima quando ho detto che le città leggere sono le città senza burocrazia. È impossibile pensare che non ci sia la burocrazia ma evidentemente abbiamo bisogno ancora di snellire tutte queste procedure ma noi non abbiamo un mercato degli investimenti sul settore residenziale. Il settore residenziale che è la seconda classe per investimenti in Europa è della prima classe per investimenti negli Stati Uniti da una decina di anni. E questo un po' ci racconta il totale. Però se vogliamo guardare appunto la realtà invece del mercato ordinario col quale abbiamo a che fare vedete che quindi la crescita del fatturato per quello che riguarda il residenziale è stata circa il 10% è andato molto bene il mercato alberghiero ed è andato molto bene il mercato alberghiero in realtà ci si è riposizionato più o meno un pochino di più a quelli che erano i successi del 2019 ma perché c'è stata una grandissima crisi naturalmente in questi due anni. Funziona ancora molto il mercato industriale che oggi noi inseriamo quasi tutto all'interno dell'ambito logistico. la logistica, l'avete vista, ma la logistica anche di ultimo miglio cioè quella che sta entrando nelle nostre città e sta andando a sostituire molta parte delle superfici commerciali soprattutto nelle aree periferiche delle superfici commerciali di grandi dimensioni non sto parlando dei centri commerciali sto parlando di quelle che erano superfici da 400-500 metri quadrati all'interno degli ambiti, abbiamo detto, delle nostre città soprattutto degli ambiti delle periferie e poi ancora un po' di difficoltà per il settore del commercio. Tutte le volte che io vedo questo dato ne sono particolarmente dispiaciuta perché sono convinta che al di là del tema dei centri commerciali che col Covid hanno avuto le difficoltà che hanno avuto, metto all'interno del mondo dei centri commerciali i retail park, i centri commerciali all'aperto i centri commerciali vede proprio, cioè metteteci tutto in questo momento e durante il Covid ma oggi è ancora così il problema è la tenuta dei flussi di cassa cioè la capacità di chi utilizza di chi occupa poi i piccoli spazi all'interno di ogni centro commerciale è di sostenere i canoni che erano stati poi decisi nel 2019 ma il tema del commercio, del commercio del vicinato ripeto invece è un elemento estremamente importante e sul quale un po' di attenzione sia noi nel nostro lavoro che le pubbliche amministrazioni dovrebbero fare perché non c'è nessun'altra realtà immobiliare che rappresenta un presidio per le nostre città e per i nostri quartieri come la presenza degli spazi commerciali gli spazi commerciali non sono soltanto un asse class immobiliare che negli anni ha dato la possibilità di lavorare a famiglie e a imprese che non tutte si sono comportate nel modo giusto diciamolo, non tutte sono state capaci di capire che andava in qualche modo modificata la modalità con la quale ci si riportava con la cittadinanza e quindi andava aumentata tutta quella serie di servizi che sono necessari oggi nel settore del commercio e per chi si occupa dei diversi settori ma dall'altro lato sono un presidio sono quindi un servizio che in qualche modo andrebbe preservato perché attirano popolazione aiutano la popolazione che vive nelle città fanno in modo che ci sia un passaggio continuo e aiutano alla vita delle città poi per il resto degli asset class immobiliari ancora qualche dubbio c'è sugli uffici cioè non sappiamo bene ancora oggi cosa sarà nei nostri uffici nel prossimo futuro o nel futuro anteriore ci sono un po' di analisi che si stanno facendo alcune delle società che rappresentano un po' da questo punto di vista a livello mondiale le modalità con cui si lavora stanno ripensando il tema dello smart working ce lo diciamo sempre o del lavoro da remoto come possiamo dire nella nostra lingua che ha anche una definizione un po' diversa però certamente quella che è stata da sempre la maggiore classe di investimenti nella nostra realtà a livello nazionale qualche problema lo intravede e da questo punto di vista c'è ancora un po' di lavoro da fare sulla modalità con cui verranno utilizzati gli spazi nel futuro io adesso vado un po' avanti perché ho visto che il tempo è andato molto veloce vi faccio soltanto vedere le slide essenziali questa vi racconta l'andamento dei prezzi nominali per il settore residenziale nei cinque principali paesi europei che cosa vediamo? che noi siamo ancora sotto se togliamo appunto l'inflazione a quelli che sono stati i risultati raggiunti quando eravamo all'apice del ciclo precedente cioè del 2007 e del 2008 ma perché noi siamo così indietro nella ripresa in termini di prezzi e di canoni la media italiana poi i capoluoghi sono un po' diversi Milano e Roma sono una realtà ancora diversa evidentemente perché? prima di tutto perché il nostro patrimonio è patrimonio usato il 90% delle transazioni che avvengono ogni anno in Italia avvengono su un patrimonio usato e su un patrimonio usato sul quale tanti lavori se vogliamo dircela fra di noi non è che li stiamo facendo sì adesso c'è stato il 110% il bonus e così via qualcuno ha lavorato ma è stato comunque sempre una parte limitata del patrimonio se andiamo a vedere quali sono i prezzi cui entrano sul mercato le nuove realizzazioni effettivamente circa il 10-15% in più rispetto alla media in termini di prezzi bene o male su tutte le realtà a livello nazionale le possiamo trovare secondo motivo ed è un motivo altrettanto importante perché la nostra capacità di spesa non è aumentata gli stipendi non sono aumentati la possibilità a livello nazionale delle famiglie di investire nella casa o negli uffici o nelle superfici commerciali negli ultimi 20 anni non è cresciuta e in questo siamo molto diversi dal resto delle realtà con le quali ci confrontiamo a livello europeo terzo motivo perché siamo molto prudenti e questo bisogna sempre ricordarlo voi che avete a che fare con la domanda ogni giorno lo sapete il nostro approccio anche se non è più vero che il risparmio degli italiani è il più alto a livello nazionale togliamoci di testa anche questa idea che ci confortava molto su quanto noi eravamo più bravi rispetto al resto d'Europa no non siamo più i più grandi risparmiatori ma continuiamo ad essere una comunque una nazione di risparmiatori e una nazione di risparmiatori prudenti anche se la casa continua ad essere il nostro maggiore e prevalente investimento vi porto a vedere questo parliamo molto all'interno di tutti i nostri incontri di come sono cambiati i desideri della domanda della domanda residenziale dopo il covid e ci arrovelliamo molto pensando a quale può essere e che caratteristiche può avere la domanda dei giovani in realtà anche qui pur condividendo tutto quello che è stato detto prima vi chiedo e vi solleccio farlo nel vostro lavoro di non considerare mai le diverse diciamo i diversi gruppi di domanda come se fossero un unicum i giovani cioè non c'è nessuna qualità nell'essere giovani come nell'essere anziani all'interno di quello che noi descriviamo come la domanda dei giovani c'è una grande varietà di possibilità molto spesso e questo avviene soprattutto nel panorama milanese e un po' in quello romano ma in generale per quello che riguarda il nostro settore ultimamente si tende a considerare la domanda quella formata dalle categorie di persone che hanno una formazione terziaria c'è una formazione universitaria che è una domanda diversa e allora diciamo che sono propensi ad andare in locazione e non vogliono comprare casa e allora diciamo che si muoveranno da una città all'altra e che avranno esigenze diverse sì questa è una parte della domanda ma poi c'è tutta una parte di domanda anche fatta da giovani che è una domanda che io dico sempre è molto più di tradizionalista di quella dei loro genitori oggi noi continuiamo a dire che i giovani hanno una grande propensione una grande conoscenza della tecnologia non è vero la maggior parte dei giovani hanno una conoscenza della tecnologia che è la ben minore della vostra fanno un grande utilizzo della tecnologia perché loro sono nati nativi digitali hanno a disposizione dei mezzi che sono semplicissimi ma cosa ci sta dietro non lo sanno e non gli interessa neanche saperlo tutto quello che sta dietro noi in fondo l'abbiamo dovuto capire all'inizio perché questa tecnologia non era così facile da utilizzare e quindi una minima idea di che cosa volesse dire avere un approccio alla tecnologia ce lo siamo dovuti fare hanno a disposizione dei mezzi tecnologici e una velocità di accesso alle informazioni che è enorme ma non sono tutti smart interessati alla locazione e disinteressati all'acquisto della casa esiste ancora una buona parte della domanda giovanile che è molto interessata all'acquisto della casa e che vede come i propri genitori la casa come una sicurezza imprescindibile si accontentano della locazione perché non è possibile fare diversamente per alcuni o molti momenti della loro vita mi tengo gli ultimi minuti e vi porto un po' avanti ci teniamo questa slide come diciamo come sottostante per alcune conclusioni quindi che cosa ci aspettiamo nel prossimo triennio in realtà non lo sappiamo è una delle momenti è uno dei momenti del ciclo immobiliare nei quali io ho lavorato nei quali non sappiamo realmente che cosa succederà nel prossimo triennio proprio per i motivi che vi dicevo all'inizio perché non abbiamo idea di come saremo in grado di affrontare tutti gli elementi che abbiamo prima sui quali prima abbiamo discusso e sicuramente andrà meglio di quello che ci siamo detti ancora il 2023 sarà un anno abbastanza positivo con un po' di rallentamento soprattutto in termini di compravendite ci sarà un pochino di rallentamento anche perché da questo punto di vista chi si occupa del mercato del nuovo già l'ha visto siccome il mercato del nuovo arriva a rogito due anni dopo i compromessi in realtà in questo momento cominciano a vedere un pochino di rallentamento sul nuovo che si realizzerà poi nel 2023 e nel 2024 15 giorni fa è uscita una notizia molto importante e molto particolare prima di tutto ci è stato raccontato che siamo arrivati al 8 miliardesimo abitante della terra cioè circa 15 giorni fa è nato l'abitante della terra numero 8 miliardi ma nello stesso momento ci è anche stato raccontato che aprile del 2023 poi bisognerà vedere se sarà aprile se sarà maggio se sarà giugno se è già successo e non lo sappiamo la popolazione indiana supererà la popolazione cinese e la popolazione cinese da questo momento comincerà a scendere questo cambiamento che sembra così lontano per noi in realtà modificherà nel futuro molto di quello che è la nostra economia perché tutta la catena del valore che è la catena di produzione che oggi è molto spinta nell'estremo oriente già si sta avvicinando perché abbiamo visto che in un momento di difficoltà per quello che riguarda le risorse e per quello che riguarda l'energia tutte le realtà economiche stanno cercando di riaccorciare la catena della produzione dei beni e di riportarla all'interno dell'Europa il che sarebbe un grandissimo successo per noi ma perché il grande gigante del futuro sarà molto probabilmente l'India e non la Cina e ci dovremmo relazionare con un paese che è completamente diverso rispetto a quello cinese che per quanto limitata ha una democrazia di altro tipo che per quanto limitata ha una domanda che è una domanda che sta studiando e ha studiato in Europa una parte piccola di questa domanda ma ha studiato e sta studiando in Europa e che quindi ha una concessione del business molto più simile a quella europea e a quella dei paesi occidentali di quella che invece ha avuto la Cina in questi anni mi ero fatta poi due calcoli mentre parlava all'inizio Gerardo quando ha raccontato il numero di agenti immobiliari diceva numero di agenti immobiliari e mediatori 52 mila in Italia abbiamo detto circa 110 miliardi il fatturato del residenziale io non so se oggi le vostre fee sono ancora al 4% ma facciamo finta che lo siano o siamo lì intorno insomma alla fin fine vuol dire circa 4,4 miliardi di valore che questa filiera potrebbe non dico può perché una parte naturalmente di queste transazioni non è possibile riuscire sono ancora fatte fra privati 4,4 milioni una parte importante della ricchezza di questo paese però mi sono fatta anche due conti su quanti agenti immobiliari abbiamo quanti mediatori abbiamo rispetto alla popolazione italiana allora rispetto alla popolazione italiana è poco meno dell'uno per mille ma rispetto al numero dei transazioni 710 mila circa vuol dire il 7% non è possibile che ancora avendo un agente immobiliare ogni centro transazioni un mediatore immobiliare ogni centro di transazioni la categoria sia ancora considerata così poco qualificata e affidabile complessivamente 7 persone su 100 che possono diciamo essere d'aiuto sono tantissime sono tantissime potrebbe essere fatto un lavoro di qualità enorme da questo settore se facciamo i conti di questi 4 miliardi 4,4 diviso i 52 mila agenti immobiliari sono circa 85 mila euro di fee all'anno fatto da agente immobiliare 85 mila sono tante o poche nel mondo dei servizi beh non sono tante perché se ci confrontiamo perché noi facciamo parte del mondo della grande catena dei servizi immobiliari dove ci stanno anche quelle professionalità quelle di chi si occupa di S-Class che hanno diciamo un rango che si considerano essere completamente diverso ci sta dentro il property facility asset valuation advisor ecco da questo punto di vista qual è l'azione che può essere fatta da incontri come questi e dalle categorie alle quali partecipate perché non arrivi un giorno un meta agente che fa quello che oggi i cattivi agenti immobiliari fanno prendere un appuntamento e chiudere un contratto punto è quella di diventare sempre più consulenti il futuro di questa categoria come della maggior parte delle categorie dei servizi immobiliari è quella di essere bravi e competenti consulenti per fare questo ci vuole formazione ci vuole informazione e una giornata come questa è una giornata di grandissima qualità di informazione e quindi riprendendo le parole iniziali di Gerardo mi sono fatto un regalo e sono presente grazie adesso ne fa uno a me no no aspetta aspetta Francesca perché adesso io qualche domanda qua ce l'ho è stata una di quelle relazioni che veramente io ho preso un sacco di appunti e vorrei continuare ad approfondire un milione di cose dette perché sono tante cose che racconti in radio e quindi davvero mi ci ritrovo tanto in queste riflessioni intanto sul bisogno della consulenza io vi dico ragazzi che in questo momento in cui i tassi stanno aumentando e stanno lievitando le rate dei mutui di tanti italiani mi chiamano in radio perché non capiscono le ragioni per cui le rate aumentano quindi altro che bisogno di consulenza qua c'è da ripartire da zero e voi siete assolutamente le prime professionalità che devono fare questo lavoro agenti immobiliari affiancati dai mediatori crediti mi sembra il minimo che si faccia io sono sbalordita rispetto a queste considerazioni che ci arrivano però arrivano e quindi mi raccomando professionalità tema della ricchezza finanziaria mi ha colpito il fatto che lei con forza abbia detto non è vero che siamo così ricchi diciamo a 10 mila miliardi non sono pochi metà in immobili no 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 abbiamo allora abbiamo tantissima ricchezza investita negli immobili perché la ricchezza investita negli immobili assolutamente la ricchezza investita negli immobili è la grande ricchezza e da questo punto di vista continuiamo ad essere i primi in Europa non c'è nessun paese in Europa in cui abitanti hanno così tanta ricchezza investita negli immobili sono i risparmi che non sono più così cioè non siamo più i primi in Europa per risparmio beh insomma 1860 miliardi di euro non è poca cosa non è poca cosa voglia comprare case a ristruttarmi voglia comprare case diciamo che se operazioni come il 110% fossero fatte con serietà e stabilità forse aiuterebbe anche se fosse stata data la possibilità anche alle imprese di accedervi cioè alle imprese nel senso alle società che detengono gli immobili non soltanto i privati si sarebbe potuto fare molto di più e poi vabbè tutto il tema che adesso sappiamo di come andranno a finire questi crediti su quello non lo so un'ultima domanda mi è interessato anche l'affermazione che ha fatto non siamo abituati a lavorare in uno scenario di inflazione così alta come segmento e quindi come suggerisce alla categoria di prepararsi a questa sfida il mercato azionario con l'obbligazionario si stanno già attrezzando hanno già diciamo metabolizzato questa condizione anche di recessione dell'anno prossimo gli aumenti dei tassi di interesse più o meno hanno già visto quando le banche centrali termineranno la loro azione il mercato immobiliare ci mette un po' di più ad assestarsi il mercato immobiliare ci mette un po' di più anche perché le nostre transazioni avvengono una volta ogni vent'anni cioè la grande differenza tra il mercato mobiliare e il mercato immobiliare è che il prezzo del mercato immobiliare si crea tutti i giorni il prezzo del mercato immobiliare si crea in queste 750.000 transazioni che si sono realizzate nel nostro paese cosa dobbiamo fare? beh stavolta io sono una sempre ottimista e anche convinta che bisogna sempre rischiare stavolta siccome di batosta in questo secolo un po' ne abbiamo avute bisogna essere un proprio prudenti effettivamente bisogna attendere un pochino guardare come si assesseranno le cose cercare di comunicare una certa fiducia è vero che i tassi dei mutui stanno crescendo ma non cresceranno all'infinito a un certo punto si assesseranno e i mutui sono come gli immobili sono di lunghissimo periodo alla fin fine la visione che bisogna avere è quella di sì avrò due o tre anni in cui farò fatica ma poi se fatto la scelta giusta e da questo punto di vista ci dovrebbe essere anche un po' di consulenza in termini del mutuo da scegliere perché oggi ci sono tante possibilità non sono soltanto il variabile il mondo che è drasticamente diverso rispetto al passato assolutamente bisogna tenere duro per due o tre anni e poi ci riporteremo sui livelli che abbiamo conosciuto molto bene allora fra due o tre anni ci ritroviamo qua per capire quello che avevamo detto chissà che cosa è successo grazie a Francesca Zinstein direttore generale di Scenari Immobiliari